Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come.Lutto a Mediaset per la morte improvvisa e assurda di una delle persone più amate, ecco il messaggio struggente per lei Lutto a Mediaset, l'azienda piange una delle protagoniste che lavorava da anni ai principali programmi dell'azienda. Era molto conosciuta e i VIP di Mediaset la adoravano, tanto da rimanere distrutti dopo aver appreso la notizia della sua morte. Dopo una lunga malattia purtroppo è scomparsa lasciando tutti nel dolore e nello sconforto A darne notizia sui social sono stati proprio alcuni dei VIP che hanno collaborato con lei in tutti questi anni, ecco il messaggio struggente Lutto a Mediaset, il messaggio struggente di tutti i VIP.Era la stilista più famosa dell'azienda, conosciuta da tutti i VIP di Mediaset che con lei in questo anno hanno affrontato i più importanti programmi. A dare notizia del suo decesso infatti sono stati due dei volti più noti, Gerry Scotti e Barbara D'Urso Sui profili sociali hanno pubblicato messaggi di addio mostrando anche scatti insieme a Silvia Pizzi. Ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te, scrive Scotti pubblicando una foto in cui la professionista sorride mostrando quindi non solo il legame che aveva con lei, ma anche la bellezza del suo sorriso La donna lascia la famiglia e il compagno Marco.Anche Barbara D'Urso, che non lavora più a Mediaset, ma che per molti anni ha guidato i programmi di punta dell'azienda, ha lasciato un messaggio su Instagram per la donna scomparsa In un'immagine in cui sorride insieme alla Pizzi, ha voluto far vedere a tutti quanto la donna sia stata importante per lei. E alla fine sei volata via. Basta soffrire Silvietta. Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno. E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature. Quante risate. E, adesso, quanta tristezza Tantissimi commenti degli utenti sconcertati dalla notizia e tanti altri VIP hanno commentato e pubblicato un ricordo per Silvia. Mara Veniera ha pubblicato una storia in cui dice addio all'hairstylist con una foto con lei nei camerini, risalente a qualche anno fa. Non si conoscono le cause della morte, ma sicuramente dalle parole di Barbara D'Urso pare sia stata una malattia a causarne il prematuro decesso. Tgcom24 infatti scrive, è morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hairstylist delle nostre stare per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali.